Omissioni di atti d'ufficio è falso, questi reati che la Procura di Napoli ipotizzano i confronti di manager e sanitari dell'ospedale San Paolo nell'ambito delle indagini dei NAS sulla presenza delle formiche nell'ospedale nel complesso sanitario di Fuorigrotta, che vedono 17 persone tra manager e sanitari iscritti nel registro degli indagati. L'inchiesta prese le mosse dai blitz condotti nell'ospedale dal 2018 a giugno del 2020, quando nelle fasi post lockdown i carabinieri sono entrati in azione nella struttura ospedaliera di Fuorigrotta. Ciascun indagato dovrà replicare alle contestazioni in relazione alla gestione dei singoli reparti in un determinato lasso di tempo, ma anche sulla scorta delle note sollevate dall'interno della struttura. In alcuni casi infatti ci sarebbe stata la segnalazione delle condizioni precarie sotto il profilo igienico, ma non sarebbero scattate le contromosse, anzi negli attestati sarebbe stato scritto l'esatto contrario, riflettori accesi anche su una ditta privata vincitrice dell'appalto di pulizia per la gestione del San Paolo. Un filone d'indagine che vede coinvolto con l'accusa di peculato uno dei responsabili ASL, che protempore avrebbe liquidato la ditta appaltatrice senza attendere l'attestato di corretta esecuzione degli interventi di bonifica. Una vicenda in un ospedale nel quale venne sollevato lo scandalo della presenza di formiche insetti che si arrampicavano sul lettino che ospitava un paziente intubato. Immagini che fecero il giro di tutta Italia. Condizioni igieniche, critiche reiterate, scrivono i PM, in una inchiesta in cui tutti i soggetti coinvolti avranno modo di replicare le accuse e dimostrare la correttezza della propria condotta.